Buongiorno, buongiorno. Mi serve una lampadina con un attacco piccolo. Ok. Ma funziona questa lampadina? Sì cara, ecco. Io c'era mio marito e mio cognato e lui la prima volta che si è sentita male nel 86. Io da quel giorno non l'ho lasciato un attimo a mio marito per aiutarla, per non farla praticare perché ha avuto male, è un problema del cuore. La gente da testaccia non mi posso dire una parola storta perché sono state carucci tutti quanti. Adesso c'è troppo confusione. Poi prima si conoscevamo tutti, adesso invece ci conosciamo di meno. Qui adesso dico la verità da quanto c'è questa modernità dei lampadini, non c'è assortimento come c'era una volta. Adesso è tutto a lette o così o cosa. Prima c'erano questi scaffali erano piene del tipo di lampade che volevi e venivano tutte da Roma per trovare le lampade che cercavano. Non c'erano i lampadini da una volta. Poi io rubavo con gli occhi, mi imbravo con gli occhi. Per esempio aggiusto un oggetto. A me non mi ha detto nessuno come devo fare guardando soltanto.